Questo video è sponsorizzato da DevZone Italia, ovvero me stesso. DevZone è una community italiana, seppur vuota, di sviluppatori per qualsiasi codice di programmazione. Puoi trovarci sia su Discord che su Telegram, link in descrizione. E benvenuti a tutti i brughinelli, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con un tizio che non fa silenzio. Sì, c'è Nicklemm. Ciao! Allora... No, non lo so con la mia piramide. Siamo in una sua bellissima mappa, il codice lo trovate in descrizione, questo qua. No, non è vero. Come se se l'avesse. Una mappa di Nicklemm e degli zombie, che ha fatto lui, io non so niente. Sono andato qua tempo fa, quando li avevano aggiunti. Adesso non mi ricordo niente. Quindi, c'è anche il jetpack carino che non usavo da 25 anni. Allora, Mrs. Nicklemm, che dovevano fare? Che io non mi ricordo un bel niente. Allora, seguimi. Allora, scendiamo qua. C'è un'altra caduta? Non credo. Nella tua mappa, non credi? Non jump. Manco sei i config della tua mappa. Siamo da jump. Dobbiamo prendere la speed. Che sarebbe? Guarda questa. Altra chest. Poi. Eh, quelle sono dei miei, degli altri miei amici. Da Infinity Blade dirò io quando prenderle, ok? Dai, sali sul quad. No, passano sulla speed, passano sulla speed. Va super veloce, anche senza turbo. Lo posso super veloce, anche senza turbo. Ti piace? Sì, ma io non si può guidare. Vabbè, comunque saliamo qui. Piedi, usi i piedi che è meglio. Ok. Io vado subito qua sotto a far spawnare un po' di zombie, guarda. Ma guarda, guarda come mi cercano di ammazzare e non ci riescono perché sono tutti bot, letteralmente. No, comunque non si può curvare questo turbo farocco. Tanto io che faccio le approbazie. Hai aperto una cassa? Hai aperto una cassa. Ormai è diventato, fai le approbazie con il quad con la speed. Io prendo l'arco e mi sto a fare scoprire. Non so, ci vanno a uccidere sti c***o le zombie. Ma l'arco fa un botto agli zombie. Guarda, guarda, lì sotto. Ma che cacchio vuoi che mi colpisci con le cose che hai tu? Ma vedete adesso con i robottoni. I robottoni li odiano tutti. Hanno fatto un devasto nelle vecchie stagioni. E i robottoni li odiano tutti. E io ce li ho. Non ti interessa. Master chest, sta pozione scudo, sto lanciarazzi. Non le aprire. E alcuni sui giabbi. Ti lanciarazzi non prenderlo. Ciao. Questo mi ha tirato un destro, mi ha lisciato. E cacchio, però prendo danno io, eh. Si può costruire, giusto? Nel gruppo pubblico. Eh sì, aspetta un attimo. Oh, bellissimo. Io ho uno di vita. Addio. Aspetta, devo mettere il gruppo sull'amici, ok? Adesso metto la torretta. Prendo le armi vedanti, ok? Ok. Allora, dov'è? Jumpo. Jumpo qui. Comunque ho messo un botto di cristalli, sarà difficilissimo. Allora. Torretta montata. Quanta vita ha sto qua? Un botto. Me lo sono accorto. Buongiorno, amici, potete morire. Guarda, guarda, guarda. Ma c'è un... Guarda, la torretta. Ma c'è un altro dietro di me. Ma cosa vuoi? Cervello, forse. Forse. Eh, non ne sono sicuro. Allora. Ok, questo è stato secco. Oh, mio Dio! Vieni, 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 mi devi aiutare. E io ormai non sento più niente della tua voce, praticamente. Perché? E non parlo più perché c'è la tua voce, l'audio di gioco. Ma... Non uccido io quello grosso. No, forse io. In caso c'ho tre jump. E chissà quant'altra roba. Come tre jump? Eh, tre... Quelle che ti vanno a saltare. Verso l'infinito. Che c'è successo? No, no. Non usare l'impulso che rompono troppo profondamente i cristalli. No, lo sai cosa è successo? Cosa è successo? È successo che ho preso una... Un kart. Sono andato a tutto gas. E ho fatto saltare gli zombie. E hanno fatto la capriola. Allora, per il tempo ho anche imparato a guidare. Con i miei belisimi. In pratica, adesso prendo la torreta. Maus. Tu mori. Ti aiuto. Tu morite. Poco di copertura. Sì, tu stai colpendo più a me che... Non è vero. Aspetta. Adesso ti faccio vedere io il fuoco di copertura vero. Quanta c***o di vinta già. Vengo io, vengo io. Ok, guidi. Sì. Io mi occupo di sparare. Allontanati. Ti ricordi come ti guida? Forse. Allora. Allora. C'è un problema. Che io in editing probabilmente abbasserò drasticamente la traccia di Fortnite. Che poi la traccia del audio desktop. Perché c'è un po' troppo casino. Quindi tu non ti senti proprio praticamente. Ora che ci penso. I sottotitoli non ho voglia di metterli. E abbiamo qualcosa che si è rotto. No, sto il brutto. Eh, il brutto. Proprio brutto, eh, comunque, eh. Ah, porca miseria. Mi hanno rotto. Ma proprio brutto, eh, sto brutto, però, eh. Eh. Cioè, potevano fare... Oh, mi è venuta un'idea. Prendiamo l'aereo. Potevano fare una texture un po' migliore? C'è l'aereo. Ma no? Vai. Poi io... Comunque installo. Ma dove ne tira ste frecce non lo so. Però, ok. Farò un buco nella base, però, per prendere l'aereo. Ti avviso. Tempo... Sono già dieci minuti di video da editare. E dieci minuti di... Ok, arrivo! No, vabbè. Ok, ho rotto un cristallo. Bravo. Carica, carica! Ok. Escusa tu che vuoi, panzone! Arrivo! Col fuoco di copertura. Stai rompendo a me... Cioè, stai facendo danno a me... Ok, l'ho ucciso. N'altro! Ma mia, kamikaze, sto aereo. Perché non tu non lo stai usando il jetpack? Ah, voglio. Ti aiuto con l'arco. Come se io non lo sto usando? Ok. Ma quanti così grossi spawnano? Non lo so. Tanti forse. Forse. Eh, forno, non è sicuro. Aiuto. No, stai, devo tirare una bella prezzata. Da dietro. Tu, panzo. Allora. Panzoid. Sì, panzoid. Devo sparargli alla testa con l'arco? E faccio headshot? Che cosa? Davvero? Sì. Ma davvero? Eh, credo di sì. Eh, credo che ti vengo a rianimare, se riesco. Eh, magari. Allora. È vero, si fa headshot. Dove vi avviare un po' i cristalli. Se io riesco a fare headshot volando col jetpack. Prendo il quad e li investo a tutti. È quello potenziato, questo? Sì. Non mi potete capire una cosa. Se io riesco a fare headshot a uno volando... Eh? Io ho veramente... Posite... Cos'erano i pro player, ma... Ma ci sono due panzoni di quelli grossi! Non sono fatta di quelli grossi, ti chiamano boss. Boss, vabbè, su panzoni sono. Ma se io sto su questo, ma se io sto su questo, ma se io sto su questo, è quello che succede. Sì, guarda, guarda, io sto facendo spawnare un po' i zombie, così i cristalli si consumano. Io sto rompendo i cristalli. Faccio le derapate! Ok. Sì. Mi vedi a me col quad? Sì, io sto rompendo i cristalli. Vado a investire il panzone di quello grosso! Perfetto. Guardami, guardami, guardami! Oh, c... Oh, mio Dio! No, cado, cado! Eh, infatti, il quad è caduto. Il mio controller si sta scaricando. Ah, gretino! Stefano! Uso delle cure, se ce ne hai. Delle cure non ce ne ho. Sì, ho anche visto il gesto. Allora, sai cosa faccio adesso? Eh. Sì? Sì, sì. Sì, stiamo a mangiare i gnocchi. Un panzone lo faccio. Allora, metto la jump a scappare. Come hai fatto a trovare la jump? Eh, ce l'ho nel... Nel coso? Adesso mi seleziono il brutto. Cioè, il brutto. Faccio... Faccio così. E abbiamo due brutti! Brutti. Lo senti tu? Via. Grazie. Pure tu. Via. Sì, via. Arrivano i razzi. Eh, perché è? Guarda il brutto come Ara ha i cristalli. Eh, me lo sono accorto. No, devo sparare tutti i razzi al panzuto. Anzi, devo sparare un po' a quell'orda di zombie che sta di là. Arrivano! Io se li... Se li... Non... Non ne ho fatto danno a mezzo con l'autodistruzione del coso. Nel coso. Ed è brutto, là. Autodistruzione. No, sono morto fuori. Ma, eh... Rimane l'inventario? Cosa? Rimane l'inventario? Cosa si che rimane? Ok. Ah, sono... Io sono... Ti piace sta mappa? No, mi fa cacca... Mo fa ha ha. Vabbè? Allora. Io che sbadiglio, vabbè. Cosa che mi stirà? Ok, adesso poi... Che bello fare le scale... C'è, certe parti velocizzale. Sì. Che bello fare le scale in velocità. Questo che devo velocizzare, scusami. Dove c'è un jetpack? Ah, la mia battle. Che sarebbe? Anche il mio è praticamente finito. Quella di mattoni. Ah, quello che... Allora, prendiamo il kart... E ci andiamo. Senza prendere i cristalli, possibilmente. Buongiorno! E come si sale su quella di mattoni? Dobbiamo andare da dentro la base. Cioè? E vabbè, sì, dai. Sono inc... Che video family friendly oggi. Questo va aspetto a fuori. Io rompo i cristalli con le torrecce. Ma faci... Devo... 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 Devo fare una cosa che adesso taglierò perché è troppo cringe. No, 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 no. Vendi l'altro. E rompi lo spawner E? E così Ok, adesso appena scendiamo dal brutto Si rompe, quindi Ma qua... Eh? Ma... Ok, va bene Guarda, 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 guarda Ma poi quanto buggato, che non sa c'è neanche tutta la... Oddio Cosa... Andiamo, andiamo, andiamo Questa è ok, l'hanno matta apposta Aspetta, ho paura di dire... Quanto, cringe Nuovi, ti dobbiamo andare alla battaglia Ma perché? Andiamo Sì, dai, sono già sotto Allora... Allora, io... No Ok Aspetta che posso anche io la... La modalità Spara, spara, spara E sparo tutti i miti lì allo zombo grosso E... Mie, mie Pa, 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 la, la Pa, pa, la, la Guarda, guarda, non muore nemmeno con tutti i miti lì questo qua Come è che non l'ho preso? Allora, cambia Ok, è morto Credo di sì Ok, è morto Che razio è uno scudo Ah, no, ok Caro, tu cos... Madonna mia Forza miseria Fanno un devasto Io farò un po' i cristalli Allora, io farò un po' i cristalli e tu vedete degli bombi Ok Ho girato di soluzione, no No, sono sceso io Allora Tu Muori E muori No Muori Ehm Dicevo Ok Lo sparare i cristalli Ma io mi metto sopra i cristalli Non puoi Ok Non ti fa mettere Scivolo Non so perché Ehm Così con poca vita Quello Boss Dov'è il boss che te lo mistilo? È qua Spera che hanno I mistili di copertura Mi devono uscire questi zombie che ha sopra i piedi Ok Dov'è il boss? Ok, lo vedo Sparano un po' di missili Arrivano Ehm Ne hanno colpito qualcuno? Ebo No, mi ti ha rotto il bot Il bot? Allora facciamo così il bot Torretta montata Ok 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 Adesso Dove ho fatto Ehm Io vedo tipo qua Non si spona qualcosa Non abbiamo letto Allora Mi è venuta un'idea Vieni da me Mi vedi dove sono? Mi vedi Sto uccidendo uno Sto facendo una scala enorme Vieni qua sopra Aspetta un attimo Vieni Ti aiuto un po' Se ci riesco Mi vieni ad animare amico Non posso Non ci arrivo Perché non ce l'hai Ah Non ce l'hai L'animazione a distanza Magari Sempre mentre sbadiglio Io ci sono svelato alle 4 e mezza Non è vero Per niente Ma ok Ma vieni alla scala enorme che ho fatto E sono anche caduto Aspetta che risalgo così No guarda Prendi la torretta Sì Prendi la torretta Prendi la torretta Allora Adesso noi dobbiamo sparare Tutti e due Allo stesso cristallo Adesso spariamo a quello Ok Ok Lo vedi? Sì Fai Adesso Spariamo a questa zona Di cristalli Bene Adesso passiamo a quello Adesso questi Che insieme Perché così va prima Aspetta che c'è Iniziamo da quel cristallo lì Guarda aspetta Da quel cristallo lì E poi ci spostiamo lungo tutta questa coda Guarda Lungo tutta questa ci spostiamo Ok Quindi iniziamo da quello Vai Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' già uscito Però noi lo stiamo registrando qua Non è ancora uscito Ci ha fatto la casa per l'infinity blade Oh no sembra che sta tirando chissà che cosa Ah pur l'animazione carina caruccia mi ha fatto Dai andiamo Da dove? Da la jump Ah Andiamo Arrivano Bello li ho visti Li vado subito sul boss Ma fa 105 L'arco fa di più Scusa Eh senti E' rotto Dove? Ma infinity blade ti cura Ma cura un p***o No davvero cura Uno di vita ogni tot Secondi Devo aspettare di curarmi un po Vado Un colpetto E scappo via La brutto delite Delite non lo so come si pronuncia Ha eliminato green and blue gee Ma che c***o Aspettare che devo curarmi un po Vado qui dietro A me infinity è rimasto troppo Attela Ah i cristalli proprio non esistono più Ok Ok Devo fare una scadata Se io voglio Voglio provarmi Vado la posso fare Vado la posso fare Vado la posso fare Vado la posso fare Così Vado la posso fare Vado la posso fare Vado la posso fare Via Perché tu c'hai la suoneria Col suono di errore Di Windows XP È un sistema bellissimo Ha dei suoni bellissimi Ma perché devi mettere la suoneria Con Non lo so nemmeno Io vado piccone Ma non muore mai sto tizio Quanta c***o di vita c'ha Mi stanno andando le botte Della Ci sono piccone Aspettare Boh Che ne so Questo Sono pure io quello Aspettare Metti elettroswing E facciamo il perfect timing Non era quello elettroswing Ma ok Aspetta Circa No no Ma facciamo l'intro C'è l'intro Quindi ragazzi Per questo video è tutto Ciao a tutti Non è vero Quindi per questo video è tutto Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Iscrivetevi Attivando la campanellina Seguitemi su tutti quanti i miei social I link li trovate in descrizione Da Green and Blue Gaming Stavolta non la rifaccio L'intro E da Nickel E' tutto Ciao Cosa c***o stai facendo Ciao a tutti Grazie a tutti.